mi è piaciuto tanto anche a me fare la maestra io sognavo di fare il pittore io l'astronauta per vedere lo spazio io il guardiano del faro ma quanti lavori strani qualcosa di più normale ma ce n'è uno che li raccoglie tutti sentite mi fa di fare il pezzo del marchese arrabbiato col